In calo i contagi da Covid a livello nazionale, stando al nuovo bollettino diffuso nelle scorse ore dal Ministero della Salute, con 31.703 nuovi casi di positività, di cui 2.189 in Sicilia. Sono 100 i pazienti positivi al SARS-CoV-2 nella provincia nissena, tutti in isolamento domiciliare, 23 sono di Caltanissetta, 22 di Gela, 11 di San Cataldo, 8 di Niscemi, 6 di Butera, 5 di Mazzarino, 5 di Mussomeli, 4 di Riesi, 4 di Villalba, 3 di Sommatino, 3 di Vallelunga, 2 di Marianopoli, 2 di Santa Caterina e 2 di Sutera. Ricoverati in degenza ordinaria un paziente di Caltanissetta e 1 di Gela, dimessi dalla degenza ordinaria un paziente di Serra di Falco, 1 di Gela e 1 di Riesi, e deceduto un paziente di Caltanissetta positivo al SARS-CoV-2. Sono invece 105 i guariti, 39 di Gela, 26 di Caltanissetta, 9 di Niscemi, 8 di San Cataldo, 4 di Mazzarino, 4 di Sommatino, 3 di Butera, 3 di Nussomeli, 3 di Serra di Falco, 2 di Milena, 1 di Marianopoli, 1 di Montedoro, 1 di Santa Caterina e 1 di Villalba.